Musica Una bella giornata di sport organizzata dall'Associazione Anna e Walter, Impresa Mamma e Sveglia Lecce che ha coinvolto tanti bambini nel segno del messaggio importante che le associazioni vogliono trasmettere, quello della violenza contro le donne Una giornata che ha visto impegnate famiglie e bambini in un torneo di calcio affinché siano loro i primi destinatari di questo messaggio e possano crescere nuovi adulti, nuove generazioni nell'ottica del rispetto e della non violenza Esiste un problema quotidiano ma è un problema che affrontiamo e lo facciamo soprattutto con le nuove generazioni Noi siamo partiti a giugno presentando in comune la campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne l'Associazione Anna e Walter insieme a Sveglia Lecce e Impresa Mamma Abbiamo creato un corto dove mandiamo un messaggio positivo alle donne Cerchiamo di sensibilizzare questa tematica abbastanza importante e oggi siamo qui al Fair Play dove abbiamo cercato di creare un connubio insieme allo sport, insieme ai bambini per mandare un messaggio ancora più importante perché pensiamo che attraverso lo sport e attraverso i bambini ci possa essere una grande crescita anche dei grandi, soprattutto dei genitori e quindi questa mattina si vede uno spettacolo incredibile dove ci sono bambini e genitori al seguito e si stanno giocando queste partite in onore di questo grande trofeo messo in palio denominato a testa alta proprio come la campagna di sensibilizzazione creata a giugno Abbiamo iniziato con il cortometraggio dove ha partecipato anche l'assessore alle politiche sociali Silvia Miglietta con la nostra testimonial Alina Spirito dopodiché abbiamo chiesto anche alle strutture, alle case famiglie di Lecce dove ci sono tanti ragazzi che hanno subito abusi e violenze di fare dei lavori, dei lavori in un laboratorio interno che noi abbiamo messo in vendita e con lo stesso ricavo le stesse strutture porteranno all'interno dei laboratori nuovi per la crescita dei ragazzi Quando ci hanno proposto abbiamo sposato subito questo progetto anche perché la violenza contro le donne non deve esistere proprio dobbiamo proteggerli e aiutarli in tutti i modi abbiamo accettato subito a partecipare anche perché la realtà nostra è una realtà nuova dove cerchiamo di aiutare tutti i bambini e contro la violenza delle donne stiamo cercando di iniziare anche col calcio femminile abbiamo fatto oggi, di preciso abbiamo fatto due mesi e abbiamo 90 bambini penso che come inizio siamo messi bene i ragazzi sono contenti, vogliono venire anche altri da noi è sempre aperta l'iscrizione riceviamo tutti a porte aperte l'Udinesi è una società importante di Serie A che ci sta sempre a fianco sono presenti costantemente e vengono qua sempre a prendere i giocatori nostri non potevamo che dire grazie per averci scelto come struttura noi siamo una struttura nuova, nuovissima e quindi abbiamo anche avuto modo di presentarci un po' a tutti non avendo neanche fatto inaugurazione perché ci siamo trovati ad aprire abbiamo aperto siamo contenti di come sta andando questa avventura e abbiamo tanti progetti c'è un progetto in atto ma non vi svelo del tutto le grandi novità ci siamo quasi le donne faranno parte della nuova scuola calcio di Dima e da Silva abbiamo un progetto in quanto anche loro si affacceranno sul mondo del calcio femminile anche perché ormai adesso abbiamo grande richieste queste ragazzine ormai vogliono anche loro dimostrare quello che sono pure sul calcio sì, devo dire siamo davvero contenti di quello che abbiamo realizzato dietro le quinte fino ad ora e ora cominciamo a vedere insomma i primi risultati di tutto il lavoro che c'è dietro che è durato veramente tanti tanti anni c'è dietro